Forti delle nostre ricchezze, forti della qualità del nostro lavoro. Qualche giorno fa ho ricevuto a Palazzo Chigi uno dei leader di una delle più grandi aziende del mondo, il CEO di General Electric, Jeff Himmel, che mi ha fatto un elogio straordinario dell'Italia, solitamente siamo abituati a pensare avrà fatto un elogio del vino, del cibo, dello stile. No, della qualità dei nostri ingegneri. E talvolta siamo noi che non ci ricordiamo della qualità che siamo in grado di mettere in campo. Bene, se l'Italia è forte di questo, come parte, come può presentarsi di fronte al Consiglio europeo senza andare nella solita macchietta per cui l'Italia deve alzare la voce? Alziamo l'asticella delle ambizioni più che alzare la voce.